4 giorni di ribasso per bitcoin, 4 giorni di respiro per il mercato delle criptovalute ma non è una correzione da sottovalutare Bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video ragazzi sono sempre in compagnia del mio bitcoin gold Non ci sono stato questo weekend perché sono stato un po' influenzato ragazzi mi sentite sono ancora estremamente raffreddato Niente di grave però ovviamente non riuscivo proprio a parlare il microfono non riuscivo a registrare e anche oggi non sto proprio in grande forma con la voce Ragazzi quindi perdonatemi se dovessi essere un pochettino ecco con questo rimbombo nasale classico da raffreddore Ma volevo aggiornarvi comunque sulla questione ciclica di bitcoin e su quello che sta succedendo Allora moltissimi hanno scritto questa correzione legata ai mercati delle cripto bitcoin è sana naturale Sì assolutamente ci stava ragazzi ce lo aspettavamo però non è sempre così facile andare a definire una correzione come accettabile Perché in ogni caso l'entità di questa correzione non è stata leggera perché è stata una correzione di oltre il 10% dei mercati Soprattutto molto veloce e andate a impattare sulle due medie mobili che utilizziamo sempre come area di supporto per quanto riguarda bitcoin ma anche eth Però c'è un problema di fondo sull'analisi ciclica questa correzione è definibile come la chiusura del ciclo mensile di bitcoin di cui abbiamo parlato nelle precedenti analisi sì o no Oppure è una questione legata a una nuova ipotesi di ciclo di natura ternaria e quindi se fosse nella versione ternaria questa correzione non è finita Oggi andiamo a fare briefing su queste due view separate per capire dove porta l'una e dove porta l'altra Cosa cambia da qui alla fine del mese di ottobre e soprattutto cosa potrà cambiare poi nel corso del mese di novembre Che è quello che ci interessa perché tecnicamente il mese di novembre dovrebbe essere quello che dovrebbe aggredire i massimi storici in maniera definitiva Perché bitcoin è vero ha fatto un nuovo ATH ma non l'ha confermato in close settimanale quindi nulla di fatto in pratica il gioco è tutto da rigiocare Alla fine poi vi ho conservato un super grafico della total market cap e della cambio btc contro ether quindi TH perché su quel cambio possiamo avere una super informazione A livello sempre ciclico quindi temporale su quando potrebbe iniziare in termini temporali una nuova alt season Va bene ragazzi allora prima di andare avanti vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto Ovviamente mi date anche sui pollicioni perché sto registrando malato e quindi mi merito il doppio dei pollici In questo video voglio vedere chi di voi mi premi ragazzi perché veramente sono in pessime condizioni ancora Anche se diciamo la testa è un po' sveglia c'è comunque sempre comunque Va bene allora andiamo a vedere quelle che sono le strutture grafiche che vi ho conservato ragazzi Qui iniziamo subito dalla questione legata al bitcoin vi spiego un po' la questione ciclica La scorsa settimana avevo indicato in un video di andare tutti sul mio canale telegram che a proposito trovate gratuitamente in descrizione di questo video E potete accedere perché avevo pubblicato un'analisi di ciclo ternario che era un'alternativa a quella che stavamo vedendo noi E che il mercato poteva seguire se non che una delle due ovviamente è quella vera come sempre avviene E dobbiamo andare a cercare di capire cosa il mercato sta andando a disegnare quindi il trucco è un po' qui Quindi chi di voi non ha visto quell'analisi ragazzi sul canale telegram può andare a vederla gratuitamente Allora questa è la vecchia analisi la binaria quella di ciclo mensile che stiamo trattando un po' da inizio di questo mese Che era avvenuto intorno al 21 quindi il classico ciclo di natura mensile fatto in questo modo Estremamente rialzista un ciclo molto forte con una parte rialzista imponente ma anche una parte ribassista nonno da sottovalutare Quindi nonno da poco soprattutto per un ciclo di questo rialzo Se non che nella scorsa view quindi tecnicamente ragazzi per chiudere questo capitolo Una view ciclica mensile di questo tipo stancirebbe in questo punto la probabile conclusione del ciclo mensile E quindi l'inizio di una nuova fase che poi potrebbe fare nuovi massimi O comunque in linea di massima andrebbe a configurarsi come un ciclo di questo tipo In conclusione verso il 20 di novembre e questo tecnicamente dovrebbe essere lo standard Quindi quello che ci aspettavamo già nella precedente view Se non che da questo punto di vista ragazzi c'è anche l'idea che il mercato non stia proprio lasciando il gioco facile Da un punto di vista di trading vi farò vedere anche tra le altre cose la mia porzione di trading attuale Che ho aperto perché è un'operazione di trading speculativo di breve Che sta cercando di recuperare tra l'altro un losso sempre su PrimeXBT Anzi ve la faccio vedere subito in questo momento Ok ragazzi allora questo è il mio account di PrimeXBT Come sempre vi lascio i link in descrizione di Prime con un coupon del 25% di sconto delle feed A utilizzare se volete utilizzare il mio ref mi date come sempre una mano Ma andiamo a vedere quella che è l'operazione Come sapete io nel mio trading di brevissimo è proprio quello insomma il trading vero Diciamo così io uso sempre PrimeXBT perché mi trovo bene soprattutto nelle parti in cui Bitcoin sale In quanto io vado a fare trading utilizzando proprio Bitcoin Quindi anche se non riesco ad entrare per esempio in una tip con una posizione giusta Quando il mercato sale resto comunque in valuta Bitcoin e questo mi aiuta nel momento in cui Dovessi restare fuori appunto a comunque partecipare al riazzo di BTC E in questo caso comunque quando vado a investire invece in questo caso sono a leva 2 Vedete sulla parte long ho un'operazione qui inserita proprio perché Perché da un punto di vista di trading io sto andando a ragionare sulla partenza del nuovo ciclo mensile Ora alla fine ragazzi noi diciamo sempre ci sono due ipotesi Ed è giusto fare così perché i trader professionisti non analizzano il mercato Cercando di prevedere il futuro Molti questi ancora non lo hanno chiaro Ma analizzano le diverse possibilità le diverse ipotesi Per avere una marcia in più e sapere in anticipo come andare ad operare se si verifica l'una o l'altra Questo è il discorso ragazzi Quindi io in questo caso pur avendo un'idea della view ternaria che adesso vi dico Sono andato in ogni caso a tradare l'inizio di questo ciclo mensile Come mi ho fatto vedere su questa operazione Quindi sono andato comunque a fare la mia dip e ho comprato addirittura anche a leva 2 Un'operazione che deve andare a recuperare tra l'altro una loss precedente di uno short di copertura Qualcuno di voi se lo ricorda perché ho detto lo short di copertura l'ho aperto Ma perderà sicuro infatti ragazzi era così E' più una questione emotiva Ci sarebbe da discuterne su queste cose comunque Allora io ho abbracciato in questo momento la versione del ciclo mensile in chiusura E la ripartenza del nuovo ciclo Però la versione ternaria che purtroppo è anche una view Che non si vede chiaramente nemmeno da ETH perché valgono entrambe Sia quella binaria che ternaria E' sempre valida e sarà annullata solo dal superamento dei massimi storici A 67.000 dollari A proposito ragazzi Allora chi di voi si ricorda il mio precedente video dello scorso anno Dove indicavo il target price entro agosto 67.000 dollari Ma BTC mi sta ascoltando Vi giuro che non l'ho fatto neanche apposta Perché si blocca intorno a quella cifra Per addirittura anche questa cosa Avevo già vinto la scommessa di agosto Perché non ero riuscito a superare quel livello Entra agosto Adesso siamo a novembre BTC Dai ottobre novembre Muoviti Supera questo livello Non ne parlerò mai più Di un livello di questo tipo Vabbè ragazzi Scherzi a parte Allora andiamo a vedere la view ternaria Che cosa potrebbe indicarci Se c'è una view ternaria Significa probabilmente che il mercato ha fatto una close del ciclo intorno a questa zona qui Quindi intorno al 12 Facendo un ciclo a 20 giorni Questa view ternaria Ripeto in questo momento può essere presa in considerazione laddove temiamo che Bitcoin possa andare a fregarci In questo caso questo ciclo da 20 giorni 20-22 giorni avrebbe fatto la metà qui Quindi qui saremo nella seconda metà Di un ciclo che dovrebbe andare a chiudersi più o meno intorno all'inizio del mese di novembre Se questa view è vera Ragazzi Difficilmente nei prossimi giorni BTC riuscirà a superare questi massimi Non la vedo fattibile Probabilmente quello che farà se è vera la view ternaria È andare a fare il rimbalzino del gatto morto E poi andare a chiudere questo mensile in questo modo Ecco qual è la questione in questo momento in atto Ed è il dubbio che un pochettino sto cercando di comprendere anche io Perché se da un certo punto di vista ho dato il là Da un punto di vista di trading di breve L'idea del ciclo bimestrale Quindi classico Ho iniziato un nuovo mensile Questa view un pochettino Non vi dico che non vi fa dormire la notte Quello è stato più raffreddore di influenza Però è una view che secondo me va tenuta sotto stretta osservazione Anche perché un paio di sistemi che utilizzo I trading system che utilizziamo in academy Come sempre ragazzi Hanno dato il segnale di chiusura di alcune posizioni Questo un po' io non li ho seguiti Ma mi tiene in allerta Perché comunque in questo momento I miei trading system sono fuori dal mercato E questo significa che la situazione magari è pericolosa Ok? Questa è l'idea che mi sto facendo Per cui gestirò questa operazione di trading Seguendo proprio il trend Con un trend is your friend E di breve periodo Quindi andrò a decidere se chiudere le posizioni In un'eventuale fase in cui il mercato mi dà segnali di inversione Di brevissimo periodo di questo trend Proprio perché ho paura Che si possa andare a verificare questo tipo di struttura Attenzione che io questa struttura di questo tipo di mensile Ve l'ho messa qui ragazzi Ma non significa che farò un doppio minimo Questa è semplicemente un'idea Perché potrebbe tranquillamente fare anche un rialzo così E poi un minimo molto più basso Oppure addirittura potrebbe fare Anche questa view Ok? E in un modo o nell'altro Ma a me quello che mi interessa È andare a monitorare questa gamba rialzista Proprio per infilarmi nel trend In maniera corretta sul mercato Allora questa è la view ternaria Ve l'ho mostrato anche qui Trovate tutti gli approfondimenti sul mio canale Telegram Di questa view che ho pubblicato la scorsa settimana Restiamo con la view binaria Probabilmente entro domani, dopodomani Si riuscirà a capire questa cosa dove va a finire Quindi se superiamo i massimi sicuramente Probabilmente è una view binaria Quindi io resto con il mio trade long Come avete visto e tutto il resto Se invece la questione inizia a ridursi Probabilmente metterò uno stop In trailing stop a questa posizione aperta E andrò a prendere profitto da questa parte qui Andiamo a vedere Ethereum Poi vi faccio vedere il grafico Come vi dicevo prima Che potrebbe indicarci Quando può iniziare la nuova alt season In base proprio al cambio rapporto BTC-Iter Che è una cosa veramente interessante Da vedere proprio nella situazione attuale Proprio sempre con la struttura ciclica Anche qui vedete ETH ragazzi aveva dato Dimostrazione Di poter avere due strutture cicliche differenti Una la struttura binaria Che vediamo qui in questa Scusate, ternaria Che vediamo qui in questa zona Quindi con 20 giorni E poi un altro ciclo successivo Oppure dovremmo farlo coincidere Con la chiusura ciclica Del mensile di Bitcoin E quindi con questa Minimo fatto qui Che però non è un gran minimo Per Ethereum ragazzi Perché rispetto a questo tipo di Di fase di bassista Vedete qui è stata veramente leggera E qua casca l'asino Come si suol dire Perché è un po' questo il problema Che mi ha messo una pulce nell'orecchio Ora come sapete A me piace guardare al di là Di quello che è la formula FUD Del mercato Perché un trader Non deve ragionare in base A tutto quello che si sente Sì lo sappiamo Noi stiamo dicendo Andiamo a fare i massimi Io sono come sapete Full long Da tutti i punti di vista Ormai da tempo Sono uno dei pochi sostenitori Del rialzo Dopo i bassi di maggio Ragazzi Però Questo non mi mette le bende Davanti gli occhi E ovviamente Cercherò sempre di tenere Monitorati I trend di mercato Ecco questo è quello che Vi sto cercando Di comunicare E al meglio Allora Questo doppio massimo Proprio Centellinato Ragazzi 43-73-43-70 Di ETH Va assolutamente Tenuto A mente Come un doppio massimo Che secondo me È palesemente Farlocco Non credo Che il mercato Voglia fermarsi qui Ve lo dico in maniera Molto chiara E secondo me ETH Davanti Anche Una Nei prossimi mesi Diciamo Una buona prospettiva Di rialzo Proprio Insieme A BTC Fermo Restando Che non vedendosi Bene Queste strutture cicliche Perché vedete Qui almeno è entrato Nelle due medie mobili Che utilizzo Come livelli di supporto Sono la 21 E la 11 A proposito Molti di voi mi chiedono Sono la 21 E la 11 SMA Quindi Semplici Medie mobili Semplici Non serve Utilizzare Indicatori astronomici Sui grafici Ragazzi Vi assicuro Che non servono Assolutamente A niente Questo anche Da un punto di vista Di analisi Quantitativa Ve lo dico Poi se vi ci trovate Assolutamente Vi trovate bene Fate profitto Utilizzate Quello che volete Anche L'astrologia E i segni zodiacali Se vi trovate Che vi funzionano Usate quelli Se fate profitto Avete sempre ragione Questo è chiaro Va bene Allora La viuternaria Di ETH Sancirebbe Questo tipo Di ragionamento Fatto proprio così Quindi In chiusura Intorno appunto Alla 2 novembre Circa L'1-2 novembre Quindi in questa Settimana E poi l'ultimo ciclo Che andrebbe A chiudere Proprio I due Mensili Verso Il 20-25 Di novembre Prossimo Allora Questa è la struttura Ternaria su ETH Oppure Ancora una volta Vale La questione binaria Non ho operazioni Di trading Su ETH Non ne utilizzo Su ETH Sono ancora long Full long Con la mia parte Holding Non mai chiusa Anche perché C'è la questione Della DeFi Quindi è utile Diciamo Per fare il farming Tutta la Diciamo Quelle questioni Lì Allora andiamo a vedere La total market cap Che è impattato Su Un nuovo massimo Ma non è riuscita A salire Però poi ha ripreso Un po' il contesto Vi faccio vedere La Il grafico Settimanale Della total market cap Perché tanto Non ha senso guardare Quello E quello daily Ragazzi Ah molti di voi Mi hanno chiesto La preparazione su Solana Allora sto pubblicando Degli shorts Su youtube O sulle operazioni Che faccio Ho un'operazione fatta Su Solana intorno ai 180 70 Viva 170 ragazzi Ok E L'ho fatta Sul Su broker FTX Che sto testando Per la questione Derivati E ve l'ho spiegato Anche nel video Successivo Sempre il link In descrizione Se volete testare FTX Come exchange Forse per queste cose Dei derivati Anche interessante Cose strane Però l'operazione Su Solana Non l'ho chiusa Perché è un'operazione Legata a uno Dei miei bot Che è pubblicato In academy Quindi il bot In the moonlight Si chiama così Quindi non l'ho chiusa Quindi qualcuno di voi Mi ha chiesto Ma l'hai chiusa Solana No Non l'ho chiusa Non è un'operazione Di brevissimo Un'operazione Di medio periodo Per cui Non è stata chiusa Quella Quell'operazione lì Allora Anche qui ragazzi Vedete la settimana Della Total Market Cup Ha fatto questa candela Sembra una candela Di massimo Secondo me Ancora una volta Non sarà così Per me Il mercato Continua ad essere Full long Certo il break Di un eventuale minimo Che vedete qui sotto Quindi 2.35 trillion dollar È rischioso Perché se il break È il minimo Della settimana scorsa Con una figura Fatta così BTC di candela Potrebbe in effetti Andare a crashare Bene Va bene Andiamo a vedere Il grafico Che vi dicevo prima Invece Per capire Quando un eventuale Alt season Potrebbe in effetti Iniziare Sul mercato Proprio utilizzando Quelle che è L'analisi ciclica Del mercato E del cambio ETH Contro BTC Allora In questa fase Vi faccio vedere In maniera molto semplice E BTC ETH Se vi ricordate Vi avevo Accennato a questo Super pump Avvenuto con il maggior scorso Poi vi ho detto Ci finiremo In questa barra di congestione Che durerà tantissimo Attenzione Perché un eventuale Break Di questo livello Molti parlano Del pareggio Di Ethereum Contro Bitcoin Possibile Nei prossimi giorni Tutto dipende Da questo ragazzi Il break Di 0.085 Se doveste avvenire Una cosa del genere Mettetevi Comodi Perché Ethereum Potrebbe fare In effetti Grandi grandi numeri Guardate qui Dove sono Contro Bitcoin Intendo ragazzi Ok Ma questo Significherebbe Una super burrano Guardate dove sono Poi I livelli Di Ulteriori massimi Praticamente Quasi Un X2 Contro Bitcoin Interessantissima Una cosa del genere Attenzione Che secondo me Questi due massimi Sono poco rilevanti In termini statistici Perché avvenuti Troppo tempo Dietro E con volumi Assolutamente inutili Rispetto all'attuale mercato Di ETH Che è assolutamente Molto più matura Quindi li considero Sì e no Andiamo a vedere La questione Invece legata Al timing Questo ciclo Di ETH È quello importante Allora qui abbiamo avuto Un ciclo semestrale Di ETH BTC Che ha fatto Questa forma qui Molto bello E molto rilevante Qui invece abbiamo Un ulteriore ciclo Che io sto disegnando Più corto Ma vi farò vedere Che qui può essere anche Può durare un mese in più Insomma Questo ciclo Quindi fino a fine Mese di dicembre Questo ciclo Sembra un classico Ternario 1, 2 e 3 Con questa Classica Forma di navicella Spaziale Star Trek Allora Questo ciclo Costruito in questo modo Non è chiuso Quindi probabilmente La questione Legata all'Ult Season Sarà rimandata Fin tanto Che il mercato Ed ETH Non va a chiudere Questo ciclo Contro Bitcoin Ora Come fa Un coin Come TH Chiudere Un ciclo Del genere Contro Bitcoin Lo fa Se Bitcoin Fa il pump Cioè se Bitcoin Va in Super bull run Prima di Ethereum Si prende Quello che gli serve In termini di market cap E manda giù Il cambio ETH BTC Perché magari ETH Riesce a Eguagliare Il rialzo E BTC Ma non è la stessa Entità Quindi è come se Fanno La solita Spola La staffetta Bitcoin Ethereum Prima Bitcoin Va a fare Il suo pump Poi dà La staffetta DETH Che si porta dietro Tutte le altcoin Se questo è vero E quindi se siamo In una questione legata A questo tipo Di ragionamento Attendendo Questa chiusura Di questo ciclo Da qui in poi Potremmo avere Delle buone Dei buoni risultati Attenzione però Perché qui Questo ciclo Non è Il finale Diciamo Di tutta questa fase Non è che sia Un ciclo Molto promettente Perché dovrebbe essere Quello terminare Dell'annuale BTC ETH Quindi questo Significherebbe anche Che probabilmente Avrebbe Una buona fase Al rialzo Ma poi Una fase Purtroppo Ribassista Che dovrebbe andare A chiudere Tutta questa Manfrina Intorno Alla 22 Di marzo Quindi Potremmo avere Una mini Mini Alt season Di qualche Periodo Poi La close E solo da qui in poi Che potrebbero cambiare Secondo me Le sorti Di questo cambio È da marzo Che potremmo avere Poi un'idea generale Di Una Presa Di Differente Diciamo Di forza Delle altcoin Contro BTC E poi Insomma Ragazzi Lo analizzeremo Ovviamente Come sempre Facciamo nel video Questa è un'idea generale Per dirvi che Secondo me L'alt season In queste prossime Settimane È ancora un po' Prematura Quindi Secondo me Il mercato Necessiterà Di avere Più Tempo E di assistere Prima Ad una Bullrun Di BTC Soprattutto Nei prossimi giorni Se questi cicli Che abbiamo visto oggi Porteranno le conclusioni Che abbiamo visto Va bene Allora Come siete messi Voi In questa Fase Di mercato E come state procedendo Avete fatto Buy the dip È interessante Sempre andare a comprare I mercati Ma quanto È rischioso Fare Un buy the dip Ragazzi Perché Perché il giorno Che Prendiamo Un'inversione Di trend Vera Cioè Quando il mercato Inizierà a scendere Noi abbiamo fatto La buy the dip Se non avete messo Lo stop loss Restate Col cerino In mano E vi bruciate Attenzione A questo tipo Di strategie Sempre molto Attenti Perché sono Rischiosissime Va bene ragazzi Allora Noi ci rivediamo Nel prossimo video Fatemi sapere Se avete anche voi Come me Le operazioni di breve Long In questo momento E incrociate le dita Per una view Binaria Ciao a tutti